Ogni marchigiano colto usa mettere in guardia contro la tentazione di vedere le marche come un tutto uniforme. Le marche sono un plurale. Il nord ha tinta romagnola, l'influenza toscana ed umbra e manifesta lungo la dorsale appenninica. La provincia di Ascoli Piceno è un'anticamera dell'Abruzzo e della Sabina. Ancona, città marinara, fa parte per se stessa. In uno spazio così breve anche la lingua munta e ha impronte romagnole, toscane, umbre, abruzzesi, secondo i luoghi. Tanti diversi spiriti ed influenze, palesi anche nel paesaggio, sembrano distillarsi e compenetrarsi nel tratto più centrale, in cui sorgono Macerata, Recanati, Loreto, Camerino. Nessuna città marchigiana ha un vero predominio nella regione. Verso Bologna gravitano il Pesarese e parte del Lanconetano. Il resto verso Roma, supremo miraggio per tutti. Ma per quanto ne accolgano i riverberi, le marche non somigliano veramente né alla Toscana né alla Romagna, e neppure all'Abruzzo o all'Umbria. La regione è addossata alle rive dell'Adriatico, metà montagna appenninica e metà collina, e divisa da ben tredici fiumi torrenti paralleli, tra cui primeggiano il Tronto e il Metauro, con altrettante valli che sfociano al mare. Alla foce dei fiumi spesso la collina cede a brevi tratti di pianura costiera. Più ancora delle milie dello stesso Veneto, le marche sono la regione dell'incontro con l'Adriatico. Questo piccolo mare d'eccezione qui si spiega più intimo, più libero e silenzioso, con i suoi colori strani, che lo fanno diverso da tutti i mari della Terra. Parlo di certi verdi freddi, grigi traslucidi, azzurri striati di rosso, che ricordano i marmi pregiati e le pietre dure. A differenza del Tirreno, l'Adriatico ha colori rari ed eccentrici, il gusto dell'anomalia. Si direbbe che le acque si propongano di imitare materie preziose ed estranee. E la collina marchigiana, volgendosi verso l'interno, è quasi un grande e naturale giardino all'italiana. Non è la collina toscana, né quella umbra, né la Veneta. È dolce, serena, patetica, lucida, priva di punte. Passando tra i coltivi delle valli ubertose, nelle belle giornate, si vedono tutte le piante luccicare all'unisono, come se le foglie fossero patinate di cera. E vi trapela un fondo di terracotta chiara, che la sera si fa rossastro, e si rivela specialmente splendendo con l'ombra e la luce di luna. I colli sono tondeggianti, con pendici prative lunghe, lente, disseminate a intervalli di grandi alberi solitari, quasi preparate a ricevere le mandrie bianche i pleniluni. È il prototipo del paesaggio idillico e pastorale. Forse perché l'ha configurato così la letteratura più tarda, noi scorgiamo l'idillio di Teocrito più su questo sfondo gentile e levigato delle marche che su quello dei Monti Siculi dove è nato. Se si volesse stabilire il paesaggio italiano più tipico, bisognerebbe indicare le marche, specie nel maceratese e dai suoi confini. L'Italia, nel suo insieme, è una specie di prisma, nel quale sembrano riflettersi tutti i paesaggi della terra, facendo atto di presenza in proporzioni moderate e armonizzandosi l'un l'altro. L'Italia, con i suoi paesaggi, è un distillato del mondo, le marche dell'Italia. Qui abbiamo l'esempio più integro di quel paesaggio medio, dolce, senza mollezza, equilibrato, moderato, quasi che l'uomo stesso ne avesse fornito il disegno. Non esiste una terra meno gotica o meno barocca. La stessa fecondità della terra, la varietà dei coltivi e degli alberi, querce, olmi, platani, gelsi, pioppi, olivi, sembrano essere usate ad uno scopo ornamentale. E' abitudine dei viaggiatori stranieri, cercando quale delle nostre regioni dia il senso peculiare del nostro paese indicare la Toscana e l'Umbria. Credo che questo accada perché di solito le marche sono fuori dei loro itinerari. Questa regione, infatti, non è conosciuta i più per visione diretta in proporzione alla sua grande bellezza naturale ed artistica. Dalle cose, il discorso scivola senza vedere nel carattere marchigiano, nella qualità degli uomini. Difficile trovare altrove una così esatta corrispondenza tra gli animi ed il paesaggio. Chi ne cerca le origini storiche ricorda che alla sua origine stanno due razze diverse, i Piceni e gli Umbri, che non riuscirono mai ad assorbirsi a vicenda. Altre influenze, come quella gallica e quella ellenica, vi passarono senza lasciare un'impronta precisa. E due volte le marche furono sottomesse a lungo da Roma, la prima volta da Roma Repubblicana, poi da Roma Papale. Sia dunque un carattere forse privo di qualità nette, ma che proprio da questo è fortemente definito. Un carattere italiano medio, che mette in equilibrio discordanti esperienze, mediante i compromessi, le diplomazie del buonsenso. Le marche sono il punto d'incrocio fra il sud ed il nord, in cui le caratteristiche dell'italiano si ritrovano e si attenuano tutte. Un popolo come questo, di natura composita, così forse il più semplice e omogeneo d'Italia. Il marchigiano è un forte lavoratore, senza eccessi, perché preferisce una vita parca. È intelligente fino alla sottigliezza di un'intelligenza ironica, che lo convince ad accontentarsi del poco. Il suo principio prediletto è fare il passo secondo la gamba. Quando deve decidersi, ama prendere tempo. Odia le intemperanze le esagerazioni. Questa è la regione che, se non erro, ha la più bassa percentuale di risse e di figli illettimi. All'equilibrio, al realismo, si unisce un istintivo ossequio all'autorità, quell'umore governativo che si accompagna al brontolio sul governo. Prevale uno scetticismo sottile che è come la seconda faccia della bontà. Abbiamo potuto constatare noi stessi quell'abitudine mentale che con un brutto neologismo è chiamata minimizzare. Quando gli chiedi delle marche, la prima reazione del marchigiano è di piegare il labbro e scuotri il capo come per dire non c'è nulla di interessante. Ma la sua risposta è in due tempi. In un primo tempo dice cosa vuole che ci sia? Gli altri hanno di meglio. Ripensandoci, però anche gli altri che cos'hanno. Autocritici e ironici, i marchigiani accusano se medesimi di essere i primi a demolire chiunque accenni ad emergere ed a tentare nuove imprese. Le marche sembrano lo specchio di quella democrazia patriarcale propria di paesi agricoli, dove il primeggiare escluso, l'uomo è richiamato sempre alla modestia naturale e ai bisogni fondamentali e le guaglianze alla moderna. Eccellono per virtù medie ed umanità comune.